Non permetterò a Turk di battermi. Combatterò. E sapete come? Spifferando tutto. Dottor Cox? Mi ha rubato il mio paziente e poi... e poi... Oh, non è niente, Dumbo, non è niente. Allora, chi è il mio bimbo grande? Su, 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 chi è il mio bimbo grande? Sono io, il bimbo grande! Oh, sei tu, il mio bimbo grande! Sono io, il bimbo grande! Santo, chi è il bimbo grande!